I radicali varano una nuova campagna referendaria in ambiti che spaziano dalla giustizia all'informazione. La raccolta firme proseguirà fino all'autunno inoltrato. Il servizio di Maria Spezia. Sono otto le iniziative di referendum proposte dal partito radicale a fronte di tre aree di interesse, cioè giustizia, informazione ed elezioni, in un impegno che nei prossimi giorni porterà i moduli per le firme in molti sedi comunali e si protrarrà fino a novembre. Possiamo, depositando queste otto leggi con le firme dei 50.000 cittadini, avere la sicurezza che il Senato, il Parlamento, le possa discutere, a differenza del passato. Perché c'è un nuovo regolamento che prevede che le proposte di legge dei cittadini debbano essere discusse in tempi certi. I progetti in fatto di giustizia spaziano dall'abolizione degli incarichi extragiudiziali dei magistrati alla riforma di un sistema di ergastolo d'ostacolo alla rieducazione, per passare alla modifica della concessione di amnistia e delle misure di prevenzione antimafia, così come di scioglimento comuni per infiltrazioni mafiose. Sull'informazione è cavallo di battaglia la privatizzazione del servizio pubblico radio-televisivo, mentre sul fronte elettorale si vorrebbe il sistema maggioritario per l'Italia e quello proporzionale per l'Europa.